Direttore, un ricordo di Giuliano Montaldo che oggi ci ha lasciato? È stato un personaggio straordinario, per me era un amico, lo conosco da tantissimo tempo, era una persona, un gentiluomo, come raramente si trova all'interno del cinema, una persona estremamente disponibile, gentile, simpatica, amica di tutti, oltre ad essere un grande regista che ha lasciato un segno nella storia del cinema italiano, quindi è purtroppo una generazione quella che ha fatto la grandezza del nostro cinema nel secondo dopoguerra che sta progressivamente scomparendo lasciando un vuoto incommabile.